ma con con come si dice come dice come si dice con con il cuore infranto dallo schifo visto in due anni sono felice che manca una partita alla fine di questo campionato il milan batte la juventus diciassettesima sconfitta per questo campionato ma c'è qualcuno che dice che questo campionato è andato meglio dell'anno scorso poi io ci vorrei parlare faccia a faccia perché mi deve spiegare qualcosa la juventus nel primo tempo buon primo tempo diciamo in base a quello che siamo abituati a vedere buon primo tempo juventus alta che pressava sul portatore di palla che ha giochicchiato anche bene solo che arriva lì davanti senza idee che su tutte occasioni casuali c'è fa due tre ti importa nel secondo tempo la juve non esiste più sparisce completamente dal campo un po meglio il milan una partita da 0 a 0 perché il milan non meritava di vincere una maniera più assoluta soprattutto nel primo tempo volevo fare una domanda a tutti quelli che contavano il clean sheet quando vincevi una zero ma venivi rullato e asfaltato le altre squadre come ti senti quando una squadra la squadra avversaria vince una zero non meritando come come ti senti nel primo tempo se c'era una squadra che meritava il gol era la juventus e non il milano però sento il milan sull'unico tiro in porta vi brucia un po il culo è perdere in questo modo qua questo è tutte le vittorie che abbiamo fatto noi per 1 a 0 quei 7 8 clean sheet consecutivi che ci hanno dato la possibilità di far credere a qualcuno che la juventus stava tornando questa massimiliano allegri è l'ultima non ti do la colpa per stasera perché non me ne frega nulla ma questa è l'ultima partita che tu devi fare allo stadio basta 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 non se ne può più non se ne può più va bene non se ne può più adesso gioca l'ultima partita con l'empoli mandaci mandateci fate fate ascoltate a me ascoltate a me mandaci la next gen a empoli no con che a udine mandate la next gen a udine basta non se ne può più giocatori svogliati giocatori che non c'hanno un cazzo di voglia non è non hai dato nulla a questa squadra tu hai però in conferenza ieri ha avuto il coraggio hai avuto il coraggio di dire che quest'anno è stato meglio dell'anno scorso è l'anno prossimo no partirai da quello che hai seminato quest'anno macerie macerie schifo inseminato quest'anno schifo basta 17 sconfitte nell'anno 17 sconfitto e sconfitte hai battuto tutti i record possibili immaginabili di questa squadra di questa società di questa maglia che tu dovresti solo baciare i piedi a chi ti ha fatto sto contratto tira fuori quel bricio di dignità hai sempre detto che tu ci tieni alla juve allora se ci tieni alla juve non mettergli il coltello alla gola alla società chiedi una buona uscita ma una piccola buona uscita proprio perché sei un caino e quindi non te ne andrai a zero ho capito chiedi una piccola buona uscita e togli il disturbo togli il disturbo hai sparato una miriade di puttanate io ormai mi tocca ripetermi ripetermi e ripetermi tu non hai dato niente a questa squadra l'anno scorso l'anno prossimo si partirà dalle macerie dal dal dallo schifo fango e macerie hai lasciato tu quest'anno alla juve altro che hai migliorato l'anno scorso ma vergognati vergognati c'hai gli stessi punti dell'anno scorso l'anno scorso almeno sei andato in finale di coppa italia quest'anno sei uscito in semifinale l'anno scorso hai passato i gironi di champions quest'anno sei uscito ai gironi e tu hai il coraggio di dire che quest'anno hai fatto meglio dell'anno scorso vergognati massimiliano allegri ti devi vergognare ripeto non sto parlando della partita di stasera perché tanto non me ne frega più nulla non me ne frega più niente ci hai sfiancato ci hai sfinito vattene via oggi sono rientrati gli ultras alla fine del primo tempo stanno attaccando pesantemente la società continuate continuate ad attaccare la società perché adesso è ora di dire anche basta basta di sti bimbi minchia allo stadio a fare i selfie che non hanno neanche rispettato il volere della curva e hanno lasciato la curva vuota no loro non ne frega un cazzo la juve vince perde guarda la telecamera sorridono fanno le foto ma che giuventini siete ma che vergogna di giuventini siete contestate contestate basta stadio basta tv basta tutto ricostruite sta società ricostruite sta squadra allegri hai finito basta non puoi più allenare vai allenare dall'altra parte tanto non ti chiamerà nessuno vai ad allenare dall'altra parte vai allenare ha detto che ti aveva chiamato il real madrid ma tu vuoi prendere per il culo a me che a te ti ha chiamato il real madrid ma quale real madrid ma quale aveva tu tu dopo 32 minuti veniva insonerato del real madrid basta è finita anche questa è finito tutto hai rotto il cazzo fino alla fine vaffanculo la fine vaffanculo